Allora, adesso è dalla sfarzo d'età. Costo metà delle carte, si raggiocano solo due. E con chi andiamo oggi? Andiamo con te, vai. Proviamo per divertimento. Dov'è venire fuori delle grandissime figate o delle grandissime stronzate. Sì, sì. Ma sarà approssimato per difetto o per eccesso? Bella domanda. Ah beh, gioco se però... Certo, se mi danno però carte di costo pari... Sì, però se mi danno carte che mi fanno morire da solo... Eh vuoi, il mazzo è casuale. Eh, il mazzo del... Vabbè, sto zitto che è meglio. Questo non lo conosco. Penso che sto modello ero non l'hai neanche mai visto. Viene arrotondato per difetto... Eh, per eccesso... Eh, difetto, sì. Eh, 3D, no? Mi sa che sto obbligato. Se Arfus veramente costassi due sarebbe bilanciato. Questo è divertente. No, sarebbe bilanciato. Ma mi era abbassato da un'altra in mana, dai. Che cazzo. Va bene, io ti gioco questa. Nel nome di chi? Elbo Cervo. Ma chi cazzo è sta gente? Vorrei saperlo pure io. Ok. Funziona la combat interessante. Non funziona come immaginavo. È quando giochi un servizio che non quando viene evocato. C'è attiva? No. Hai avuto un attimo di paura. Sì, sì, ho avuto un attimo di paura. Oh, la partita dei rani la chiamavano. Eh dai! È un po' sfigato. Coprire i nomi. Eh vabbè, ho capito. Mi deve mettere pressione. La pressione. Carina, commossa. Mi è piaciuta. Ho apprezzato. Nooo. Nooo. Chi si deve far andare via? E' veramente mio Easy Che palla E' stato divertente No, non è stato per nulla divertente Madonna, questa bustina mi si è paraflashata in faccia E adesso cosa usiamo? No, non è stato per nulla divertente Andiamo con lui giusto perché è uscito Ma che cazzo? Voglio vedere che cazzo abbiamo cavato al mazzo? No, tu hai ignorato tutto Agro Porca puttana Ricordiamoci per gli amici della Telecamera 2 che è Ragnaros Non Ragnaros Scusa Che mano è questa? Che cazzo mi vuol dire sta mano? Ma che cazzo vuol dire sta mano? Te non avrai mai gioco Vabbè Ma non può, no, ma no, ma no Io te lo spoilerò giusto per il meme bro Mi è piaciuto Ragnaros Cosa? Cosa Natpeagle? Natpeagle Va bene, devo dire ti E vabbè Ha rullato giusto Guarda Guarda per me vuoi anche lestare Perché? Paura eh Orca puttana Orca puttana Contaminate le acque Si vabbè Però E che è Il pescatore folle Che va Che va Beh direi che questa partita è stata molto emozionante Un attico signori Un attico signori Puoi giocare solo un'ultima carta eh Che va 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 Beh con 3 6 vitori come doveva finire scusa Però almeno Fossero riusciti quelli Eh vabbè Eh vabbè Non mi lasciai neanche il diritto di morire per i murloc, che tristezza. Un'ultima? Vuoi farne un'altra? Si dai, è durata troppo poco. Insomma non è un'ultima. Oggi tocca... Sceglimi la classe dai. No no, casuale, casuale, vai con quello che ti porta il cuore. Che vuol dire casuale? Come faccio a fare casuale? Scegli una classe che ti porta il cuore. Ok. Io cerco per il modello rock e mi esce. L'ho fatto a caso, ho chiuso gli occhi e ho iniziato a muovere e ho iniziato a cliccare a cazzo di gara. In realtà no, davvero non l'ho fatto a caso. Interessante. Ma che è sta merda? Ok, questo però potrebbe essere interessante. Ma sopravviverà abbastanza. Davvero posso fare sta merda di mo... Davvero ho pescato e posso fare sta merda. Ti ricordi quando parlavamo di Hearthstone XXX? Che vuol dire XXX? È dentro di me! 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 Eeeh, che giocata! Visto che giocatore. Te l'aspettavi, vero? Te l'aspettavi? Quella di giocata è quindi? Ho fatto la prima? O, no! Perchè?! Fatti i cazzi tuoi! Stra sheet! Paga doppia!!! Ovviamente non avevi una giocata migliore. Faccio strada! Ne ho mettete in pressione, è l'unico modo per vincere. La pressione. Va bene, l'hai vinto tu. Ha, quel coin. Cosa pensi di fare quel coin? Baffa a tutti! Me lo so aspettato sto buff hour. Come posso vedere ho vinto io. No. No. Chi cazzo mo mi evoca? Porco. E forza, supera sto muro. Ehi, lo vuoi un girellone? No, niente girellone oggi. È stato interessante. Questo è gustoso. Oh, c*****a. Che c'è? Non ti piace? Alimentare i congini dell'anima. Ok, grazie. È stato interessato. Cosa mi evoca? C'è fuffa per tutti? Eh, ci sarà fuffa per tutti. Allora, sto pensando a come divertirmi. Ma tu tanto non sei via un cavolo. Non ti fuffa per te. Ma tu mi riguarda ho vinto. No, Eric, no. C'è fuffa per tutti. C'è fuffa. Dovevi farlo prima magari. Che dici? No, no, no. Va bene così. Prima di solito non ci ho pensato. Ma va bene, è lo stesso. Adesso. Oh, c*****a. No! No, 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 no. Porco Dio! E dai! Adesso mori, torna pure in vita, dai! No, è davvero una cosa divertente. Io sono molto più forte di te. Eh? Ehm... Avevo anche dardo demoniaco per distruggerlo. Ho capito, un trade a voto lo dovevi manna. Non per forza. Ultima, dai, facciamo ancora un ultimo ultimo ultimo. Sì, ultima. Che divertente. Vediamo cosa mi esce con questo campione. Vediamo invece con questo. Certamente non gioco il ladro. Il ladro è l'ultima classe da giocare. No, 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 il ladro no. Il ladro deve fare piu 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 piu. E devi giocare 18 carte così come la vuole fare a giocare. Io ti giuro che ho detto Irel Ascella. Mi chiede Ancella. Questo potrebbe essere spazzate sugli scodi. Questo potrebbe essere interessante. Per il modo di dire. Più meme che interessante. E questo come te la gioco. Non avrà mai giocata. Eh, datemi il metallo. Dai, datemi la fessisora. E cosa? No! Feriamente? Feriamente, ripeto. Cos'è? Attacco ping? Palese. Troppo ovvio. Sono fallito. Grande leviatano. Questa carta esiste ancora. TOROTAN! Vabbè. RNG? 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 Interessante. Cioè, davvero non avevo niente di meglio nel mio mazzo. Ma mi pigliate per il culo? Uh-huh. Cioè, sto trovando Murlock. Murlock. È ancora Murlock. Murlock Pala, non lo conosci? Vaffanculo del Murlock Pala. Cosa mi tocca? Ah, anche lei dice cala il martello. Buono sapersi. Cala il martello. Davvero? Si dice cala il martello. Cala il martello. Cosa mi dice che non hai un Murlock in mano? Ma va? Sono andato un Murlock Pala nel Caspius. Fai un po' tè. Pingare ti faceva schifo? Bevi qualcosa con me. Ah. Ok. Stava a dirlo. Per tutti è tutto. Allora. Fermi tutti. Potrebbe quasi essere interessante. Quasi, però. Sul trade. Faccia. No, che sei per fare? Ho paura. No, no, no. Non ora. Non ora. Oh, no. C'è tempo e luogo per ogni cosa. Ma non è ora. Il momento. Seriamente? 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 Bene, la mia comoda è appena andata a farsi benedire. Che cosa volevi fare? Eh, shen? Eh? Cosa volevi fare? Non farti domande. Oh, una spella a 6 che ora costerà 3. Porco di... No, dici danni faccia, no? No, brutti. Brutti, dici danni faccia. Comunque avevo... Volevo trasformare una di quelle casse in una 3-3. Mamma mia, che schifo. Per finirti con la cassa. Che cos'è? Cosa cazzo fa sta cassa? Dopo che tu l'hai attaccato avevo con una rana, un 1-1 con bloccata. Ogni rana è più grande della precedente. Ma cosa stai... Lanci rane? Non ho capito. Praticamente. Scusa? Un'altra volta? Eh, questo mi ha dato il gioco. E poi da me. Sì, ma come la gestisci? Beh, bro, se tu non me lo puoi trattare... Io vieni, cioè... Se me lo riesci a trovare bene. Il gioco mi pigli per il culo. Se me lo puoi trattare il 6, sei buon per te. Sì, posso. Dico, senza il... Senza il... Dico, senza usare l'attacco tuo. Eh, ma hai vinto. Vaffanculo. GG. Però è stata molto divertente la pescata in top deck. Quello fastidio, tra me. Sì, ma tu trovo, bro, hai trovato la combo definitiva. Sì, veramente. C'è le due armi, hai trovato. Tra l'altro ho più uno d'attacco. Beh, direi che può bastare. Ma come?